E' il momento clou della stagione, il titolo di campione d'Italia si assegna sulla sabbia di San Benedetto del Tronto, quarti di finale quanto mai ostici per la Domus Bet TV Catania Beach Soccer che affronta a domicilio l'Epic Art San Benedettese. Fin qui i precedenti hanno sorriso due volte su due al roster di Fabrizio Santos, prevalso in campionato in Coppa Italia, ma è tutta un'altra musica quando una gara d'eliminazione diretta vale un biglietto di sola andata con visto semifinale. Stimato oltre un migliaio di tifosi e sportivi, occorsi alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto, quando passiamo al film della gara, il primo scatto è della Samb che passa in vantaggio dopo un solo minuto sugli sviluppi di un angolo dalla destra con la zampata decisiva di Rafael Silva. Domus Bet TV Catania Beach Soccer che ristabilisce la parità sventagliata di Catarino che apre per Denisi che infila Paterniti all'incrocio dei pali. Primo tempo chiuso sul parziale di parità con un gol per parte, antipasto di un secondo tempo scoppiettante. Ad inaugurarlo la conclusione di Joseph dopo 40 secondi deviata da Paterniti. Ma è al quarto minuto che la gara si infiamma, Catania che va in vantaggio con Fred, abile in acrobazia a battere l'ex compagno di squadra Paterniti sulla preziosa assistenza di Ben Martins. E un botta in risposta si infiamma la Beach Arena con l'immediato pareggio di Curcio che fa 2-2. Contro sorpasso che si completa con la rete di Marcello Perciamontani che chiude un altro schema ancora al volo, un'altra gemma che permette al Catania di mettere la freccia. Secondo tempo che regala ancora emozioni, Giordani al quinto scheggia il palo al sesto, Cameli pescato da Mascaro, calcio alle stelle. Si va al terzo tempo, ultimo regolamentare sul parziale di 3-2 in favore del roster rossazzurro guidato da Fabrizio Santos. Terza ed ultima frazione di gioco che inizia con il Catania all'attacco. Il colpo di testa di Joseph Junior viene facilmente neutralizzato da Paterniti. Al terzo due grandi opportunità per allungare il palo di Catarino e la conclusione di Farigna in campo aperto su cui si oppone Paterniti. La gara è sempre sul filo dell'equilibrio. Samb vicinissimo al pareggio al quinto con Bernardo fuori gioco per questione di centimetri. Poi la possibilità per B Martins per portare avanti il Catania sul 4-2. Piazzato ti assomiglia molto ad un calcio di rigore che si stampa sul palo a portiere battuto. Si entra nell'ultimo giro di lancette e saranno emozioni. Bocchigna fa le prove col gol alta, la sua conclusione sopra la traversa. Poi però si riscatta quando mancano 58 secondi al termine del match. Un piazzato che va a insaccarsi alla sinistra di Rafa Padiglia che non arriva. 36 minuti regolamentari che si chiudono sul 3-3. L'ultima parola l'avrebbe la Samb ma Mascaro difetta in precisione a due passi dalla porta. Rossazzurra si va all'extra time, altro concentrato di emozioni. Catarino dopo soli 4 secondi riporta avanti il Catania. Non è però il gol che spacca la partita. La risposta della Samb è ancora immediata, sempre con l'ariete Rafa e il Silva in anticipo sui marcatori e su Rafa e il Padiglia. L'ultima parola è però Rossazzurra, l'uomo della vittoria e Ben Martins decisivo ad 1 minuto e 22 dal termine. Sua la doppietta quando il secondo gol viene realizzato a due centesimi dal triplice fischio di chiusura. La doppietta che manda la Domus Bet TV Catania Beach Soc in semifinale. Sarà ancora derby. Rossazzurro varrà un posto in finale penultimo atto di una stagione da vivere fino all'ultimo battito.